Come ormai tutti sappiamo le diete a basso contenuto di grassi tendono a peggiorare i livelli di testosterone, ma qual è la soglia? Quanto bassi devono essere per incidere in maniera importante sui livelli di testosterone? Diciamo che i grassi non dovrebbero mai scendere sotto il 20% dell'introito energetico e non si dovrebbe mai trascurare la parte di grassi che viene dalle fonti animali che sono molto importanti, soprattutto i grassi saturi. È chiaro che magari in certe occasioni si può scendere anche sotto il 20%, magari per brevi periodi, ma in generale non bisognerebbe mai scendere sotto questa soglia e l'ideale per i livelli di testosterone sarebbe averli almeno al 30% dell'introito energetico.